Partiti, prima corso in programma, premio Rotary Clebozzieri sulla distanza di metri 1800, riservata a puro sangue inglese di tre anni. Erbacciuga prende il comando delle operazioni dopo 200 metri di gara con Edelbrecher allo steccato, all'esterno Sardinian Girl, il numero tre Camanchauso che ha all'interno Dr. Boyce e Picurea mangia guadagni a chiudere su Leus. In questo ordine i cavalli affrontano la prima piegata con il battistrada Erbacciuga che conduce nei confronti di Sardinian Girl che all'esterno Earthbreaker si avvicina a Epicurea in scia Dr. Boyce, Comanchauso, Mangiaguadagni su Leus. Metà della rete opposta con il battistrada con una lunghezza di vantaggio nei confronti di Sardinian Girl, Earthbreaker e Picurea si avvicinano Dr. Boyce e Comanchauso, percorsi esterni Mangiaguadagni e su Leus. Inizia la piegata conclusiva con Erbacciuga, leader della corsa nei confronti di Epicurea che si porta in seconda posizione. Progredisce Earthbreaker che risale in terza, Mangiaguadagni all'esterno del quale viaggia Comanchauso, Cavalli in dirittura con Erbacciuga sotto la minaccia di Epicurea, Epicurea ed Erbacciuga in lotta ai 200 conclusivi con Erbacciuga che resiste agli attacchi di Epicurea, prova la progressione at Becker con all'esterno Dr. Boyce e Comanchauso ed è Erbacciuga che viene a vincere mentre Comanchauso proprio sul palo. in pallina il numero due Epicurea che conclude in terza posizione, si attende l'ordine ufficiale.